un cordiale saluto a tutti voi ben ritrovati questa è la resegna stampa occhio ai giornali che come sempre apre l'informazione la giornata con l'informazione appunto la lettura dei giornali questa mattina nella nostra edicola digitale abbiamo purtroppo soltanto il Corriere Adriatico e la pagina di Fano del Messaggero mancano alcune pagine di Pesaro del Messaggero appunto e poi il resto del Carlino per problemi che non dipendono da noi ma dall'edizione online e in pdf dei quotidiani che evidentemente hanno bisogno di più tempo per metterle in rete perché spesso purtroppo queste edizioni non sono disponibili al mattino presto come invece dovrebbe essere perché altrimenti uno va in edicola e si compra l'edizione cartacea allora andiamo con ordine il santo del giorno subito oggi è San Bonifacio Vescovo il sole sorto alle 5 e 26 tramonterà alle 20 e 46 guardate che giornata oggi spettacolare una bella giornata di sole con temperature alte diciamo tipicamente estive in piena estate perché già siamo a 20 gradi quasi 21 gradi alle 7 e mezza quindi figuriamoci ancora il termometro salirà abbondantemente nel corso della giornata infatti oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento soltanto nel pomeriggio a ridosso dei rilievi quindi non si escludono ma qui stiamo parlando veramente del profondo sud della regione quindi vicino ai Sibillini isolati piovaschi che non ci interessano per quanto riguarda il nord della regione Marche poi per quanto riguarda le temperature saranno stazionari oggi con anzi addirittura in lieve aumento poi i venti saranno di brezza leggera o tesa dai quadranti settentrionali il mare sarà quasi calmo poco mosso per la giornata di domani invece sabato 6 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi durante le ore più calde della giornata con possibilità di brevi rovesci sempre intorno ai Sibillini con temperature in lieve diminuzione per la giornata di domenica resta soleggiato sulla costa ma l'entroterra avrà dei momenti in cui come sempre giù nella parte meridionale della regione insomma ci sono situazioni di instabilità e dove non si escludono appunto locali rovesci pomeridiani sempre sui rilievi le temperature sono stazionari o in lieve aumento nei valori massimi l'alta pressione per i prossimi giorni seppur in una fase di indebolimento garantirà ancora condizioni di tempo stabile con debole attività comuniforme solo sulle montagne della regione tutto questo anche per la prossima settimana dunque tempo stabile allora cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico perché? Perché si parla di politica si parla di Rosetta Fulvi come settimo assessore nella giunta di Massimo Seri prima opzione del PD con Fanesi alla presidenza in caso di rimpasto sono a rischio due assessori secondo il Corriere Adriatico Labarnesi e Paolini c'è un articolo che ovviamente non vi leggo vi dico soltanto che c'è questo dibattito aperto per la necessità di sostituire Minardi che essendo stato eletto consigliere regionale dovrà necessariamente ma lo ha già detto lui e anticipato ma era nelle cose ovviamente darà le sue dimissioni quindi si libera il posto da Presidente del Consiglio e non escluso che ci sia anche qualche rimpasto in giunta e il Corriere Adriatico scrive che appunto potrebbe esserci questo rimpasto che potrebbe non solo riguardare Marina Barnesi data in uscita da più fonti nonostante dal febbraio scorso si sia messa in aspettativa dal lavoro all'Asur proprio per dedicarsi ai servizi sociali insomma va bene tutto da leggere questo articolo del Corriere Adriatico poi noi città vuole rapa nel governo regionale la lista civica scrive il Presidente Marco Savelli condividendo il pensiero di molti cittadini per i quali la politica è al servizio della città e non va vista come la mera occupazione di una poltrona a carico della collettività fatto così vabbè adesso non nel caso di Savelli ma in generale su tutte le cose che si dicono chiaramente la collettività, il bene comune, tutte parole poi alla fine in realtà non è mai così e vabbè e vogliono rapa il governo regionale e certo, comunque farebbe comodo ovviamente un rappresentante di Fano tirando l'acqua al mulino il centrodestra invece ripartirà senza Mirko Carloni Baldelli, Antonio Baldelli che ha avuto un sacco di voti anzi è stato il più votato nell'area politica in tutta la regione mette in guardia anche Forza Italia ora si cambia la classe dirigente ospedale unico invece alto là dei grillini sempre sul discorso della sanità e sul discorso dell'ospedale su Fano ovviamente Fano 5 Stelle analizzando il dato elettorale da l'alto là al governatore Ceriscioli ad allarmarci è il dato dell'astensione che intacca quasi il valore democratico del governo elettivo affermano Marta Ruggeri Adaro Miccio e Roberta Ansuini un'astensione della quale abbiamo parlato ampiamente che supera ed è superiore per qualche decimo al 50% insomma non è poco è un dato sul quale bisogna riflettere allora la cronaca invece dal Corriere Adriatico la pagina di Pesaro l'agricoltore muore in un campo il trattore si è ribaltato e non c'è stato nulla da fare per questo pensionato di 75 anni quando i vigili del fuoco di Urbino lo hanno ritrovato l'anziano era già deceduto da alcune ore poi si parla di un bimbo un bimbo di 20 mesi che è finito in rianimazione era a mezzogiorno quando il piccolo si è sentito male ed è arrivato in arresto cardiaco al San Salvatore di Pesaro poi è stato trasportato in eleambulanza al polo pediatrico al Salesi di Ancona sotto si parla anche del dottor Zantax medico che salva la vita Aldoricci e i primari di Marche Nord Zingaretti e Martinelli a confronto sul libro scritto da Giorgio Gambale Lavori in superstrada un inferno al sole piccolo tamponamento blocca il traffico per ore chiesti gli interventi si potrebbe indicare l'alternativa della vecchia Flaminia che resta sempre inutilizzata c'è chi suggerisce e leggiamo un articolo pubblicato e scritto da Fossombrone c'è chi suggerisce dicevo l'opportunità di accessi controllati alla superstrada indicando le deviazioni per evitare quello che è successo martedì 2 giugno i lavori di sistemazione di un viadotto nei pressi di Fossombrone e un tamponamento senza greve conseguenze hanno trasformato tutto in una sorta di giungla e poi insomma sotto il sole le cose peggiorano ovviamente stando fermi anche in macchina nonostante l'aria condizionata per chi ce l'ha fiaccolata in difesa della scuola invece siamo sulla pagina di Pesolo del Corriere questa sera c'è una manifestazione di insegnanti alunni e famiglie contro la riforma di Matteo Renzi partiranno da Piazzale della Libertà alle ore 21 a Pesolo dove troneggia la palla e arriveranno in Piazzale Lazzarini davanti al Teatro Rossini i due simboli dell'eccellenza culturale di questa città cioè della città di Pesolo stasera grande manifestazione pubblica con una fiaccolata che chiamerà a raccolta tutto il mondo della cultura della scuola operatori culturali docenti personale ATA famiglie studenti e cittadini che hanno seguito il dibattito sul progetto di riordino della scuola pubblica presentata a Milano la notte rosa Matteo Ricci anticipa gli eventi che si svolgeranno a Pesaro Zingaretti il regista della Kermesse e poi la storia di questo gattino si chiama Spenchi sei ore di tentativi per salvarlo per salvare questo gattino intrappolato in una siepe un gruppo di ragazzi riesce a liberarlo erano le 23 e 58 due minuti alla mezzanotte poi il prefetto di Pesaro Pizzi chiede la disponibilità dei comuni ad accogliere dei migranti ieri in prefettura si è svolta una riunione presieduta appunto dal prefetto Luigi Pizzi per verificare l'eventuale disponibilità all'accoglienza dei migranti comuni nei comuni dove sono presenti strutture adeguate andiamo a leggere adesso invece la pagina di Fano del Corriere Adriatico c'è la cronaca la cronaca da Ronco Sambaccio dove è stato arrestato per tretti di Ascish un giovane di 29 anni italiano che aveva avviato un vasto giro di spaccio di droga in una casa nella sua casa in collina dove pensava questo giovane di passare inosservato nello smercio di questi stupefacenti tant'è che proprio insomma si era creato il suo habitat l'oasi con animali da cortire all'esterno un casolare insomma lontano da occhi indiscreti però poi che succede che i carabinieri ovviamente che la sanno lunga e sanno benissimo come funzionano queste cose basta prendere uno di questi assuntori cominciare a indagare capire da dove si rifornisce e dove prende questa cosa queste sostanze per andare a ritroso e arrivare un po' come si fa col gomitolo di lana arrivare alla fonte e vedere da dove c'è questo approvvigionamento di sostanze superfacenti e questo filo è terminato praticamente in questo casolare sperduto dove c'era questo giovane che aveva organizzato tutto questo spaccio quindi insomma complimenti perché alla fine complimenti non certo allo spacciatore ma ai carabinieri e alle forze dell'ordine che insomma con attenzione seguono e conoscono perfettamente il territorio adesso parliamo invece della promozione del Carnevale di Fano all'Expo di Milano nei social network si è un po' discusso in particolare di questa promozione il titolo è promozione solo nella fase iniziale ancora nessun turista da Milano alla data un peccato l'assenza di pupi maschere e getto qui bisognerebbe aprire un pochettino un discorso anche un po' più ampio complesso eccetera innanzitutto era difficilissimo portare dei carri quasi anzi impossibile portare dei carri a Milano perché sapete benissimo che i nostri carri sono molto grandi immaginate voi fare 400 km per portarli su le maschere beh insomma sì è vero abbiamo la gomma piuma ma immaginate voi far indossare della gomma piuma sotto 40 gradi 38 gradi delle persone già era difficoltoso con le divise invernali della musica di abita figuriamoci con la gomma piuma altri pupi insomma comunque per il trasporto e quant'altro sarebbe stato un po' complesso la macchina dell'Expo è una macchina per quanto il più possibile perfetta è comunque una macchina enorme ci sono dei tempi stabiliti limitati gli ingressi una cosa o l'altra portare su portare su pupi e quant'altro sarebbe stato un'operazione costosissima sia per i mezzi interessati al trasporto ma poi insomma una cosa molto complessa da gestire non è vero che hanno sfigurato come qualcuno sostiene su Facebook ma anche qui su Facebook bisognerebbe per una parentesi anche i colleghi giornalisti non stiamo troppo a guardare quello che si scrive su Facebook cominciamo a insegnare che l'informazione va mediata Facebook è un punto di ritrovo dove ognuno spara stupidate spesso ecco quindi evitiamo di andare a prendere spunto come fonte come oracolo della verità Facebook così come social network social network servono per capire un po' l'andazzo un po' il vox populi ma finisce lì per il resto continuiamo noi a dire a mediare l'informazione perché se no il giornalista può andare a casa a fare un altro mestiere o cambiare direttamente mestiere perché ecco Facebook pretendere di fare un discorso serio su Facebook è come pretendere di fare un discorso serio l'ultimo dell'anno dentro un'osteria non si fa quindi ecco allora e poi un'altra cosa è stato commentato un video privato non era il video ufficiale della sfilata non esiste il video ufficiale quindi è stato fatto un discorso e un commento un po' così ecco e quindi non prendiamo adesso perché 4-5 hanno commentato che la promozione non è stata un granché e prendiamo per buono quello che quello che hanno detto queste 4-5 che neanche c'erano quindi voglio dire hanno visto semplicemente un filmato privato pubblicato su una pagina Facebook ecco quindi cerchiamo di dare di tornare a fare il nostro mestiere come ce lo hanno insegnato i grandi i grandi maestri del giornalismo quindi con la suola delle scarpe consumate e guardando guardando dal vivo quello che succede raccontando dal vivo quello che succede non per sentito dire o per quello che si scrive su Facebook chiusa la filippica e questo pistolotto e vi chiedo scusa ma è un po' che ce l'avevo dentro allora andiamo avanti e vediamo che cosa scrive il Corriere sotto invece chiesta una città più verde sicura e pulita il consiglio comunale dei bambini riunito con quello degli adulti déjà vu per Santorelli Santorelli lo vedete in questa immagine e così come vedete questi bambini che ieri si sono riuniti in consiglio comunale a Fano insieme a quelli grandi arrestato per tre etti di asci in casa aveva un via vai di ragazzi blizze dei carabinieri insospettiti dall'anomalo movimento intorno all'abitazione isolata Ronco Sambaccio di un giovane con animali da cortile andiamo sulla pagina di Marotta velocemente siamo in ritardo Marotta Unita il Tarsi prende altri 30 giorni per decidere ieri l'udienza per discutere il ricorso presentato dal comune di Fano dal comitato Fano Unita e dal comitato cittadino mondolfese una marcia indietro risulterebbe dispendiosa e causerebbe problemi ai tanti cittadini interessati beh immaginate cosa significherebbe adesso ritornare a Marotta di Fano staccato queste sono cose da carte bollate ma credo che ecco lasci il tempo che trovi ormai è fatta Marotta è unita e quindi è Mondolfo punto però bisognerà dar lavoro anche a chi si occupa di carte bollate quindi lasciamoli fare lavoriamo perché sia l'estate della svolta il presidente del GTM illustra le iniziative realizzate insieme dai commercianti albergatori e cittadini sotto da grande vorrei fare l'inventore è stato inaugurato il plastico dei passeggi è lo splendido lavoro degli alunni di Sant'Orso che hanno vinto la sfilata direi che è tutto non c'è altro no forse c'è ok no questa è la pagina del messaggero ZTL Lido i residenti vincono e strappano la tariffa scontata dunque ci sono buone notizie perché i residenti del Lido hanno ottenuto lo sconto sulla tariffa della zona estiva traffico limitato ovvero per due macchine tanto per fare un esempio risparmio di circa 128 euro nell'arco di tre anni se prima si pagavano 212 euro 180 di permesso in relativi bolli da ora in poi la spesa si riduce a 84 euro e mezzo in totale chi ha già pagato invece con la vecchia tariffa può chiedere il rimborso ok quindi devono però presentare la richiesta agli uffici della mobilità urbana che si trova in centro vicino alla chiesa del Duomo sul referendum Fano non si arrende l'obiettivo è verificare la legittimità della consultazione popolare che è costata il distacco di Marotta poi due appuntamenti veloci questa mattina 9.30 per chi ci segue in diretta c'è un'iniziativa che si svolge alla Memo sul commercio che non è solo economia ma anche un valore etico quindi il commercio ecosolidale alle 9.30 c'è anche il sindaco Seri e il vescovo Trasarti poi invece oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa degli Sparmi di Fano in Via Montevecchio verrà presentato il pellegrinaggio malatestiano del 1399 al santuario di Santa Maria del Ponte Metauro interverranno Fabio Tombari presidente della fondazione e il vice sindaco Stefano Marcheggiani con la professoressa Anna Falcioni dell'Università di Urbino è tutto grazie per averci seguito a voi tutti l'auguro di una buona giornata 08 musica musica Grazie a tutti.